Ha ucciso l'anziana madre di 85 anni e è successo nella villetta alle mie spalle, poi l'uomo, un 48enne, ha avvisato i carabinieri. Manuele Andreini, 48 anni, operaio meccanico, viveva da solo con la madre di 85 anni, assunta Andreini, in questa villetta che si trova a Calbenzano, comune di Subbiano, uno dei primi comuni del Casentino. Ha soffocato la madre con un cuscino fino ad ucciderla. La chiamata al 112 è arrivata intorno all'una di notte. È lui ad avvisare di quello che è successo. L'ho uccisa, avrebbe detto, perché mi portava al suicidio. Sul posto arrivano il comandante provinciale dei carabinieri Claudio Rubertà, assieme al maggiore Silvia Gobbini, che guida la compagnia di Arezzo. All'arrivo dei militari, il 48enne, ancora in casa, all'interno dell'abitazione, i carabinieri trovano il cadavere della donna. L'uomo è stato portato poi in ospedale e successivamente in caserma. Le indagini sono coordinate dalla PM Francesca Eva, che adesso dovrà disporre l'autopsia sul corpo della vittima. Il 48enne è stato tradotto presso il carcere fiorentino di Sollicciano in attesa dell'interrogatorio di garanzia. I militari hanno cercato di ricostruire il passato dell'uomo. Sarebbero emersi problemi psichiatrici. Una delicata situazione psicologica, dunque, potrebbe essere alla base del delitto. Non ci sarebbero state liti, aggressioni o percosse, come inizialmente si pensava. La madre, che era vedova, era in buona salute. Le due sorelle di Manuele vivono non troppo lontano da qui. Una famiglia, insomma, apparentemente senza particolari problemi, come ci racconta una parente che arriva sul posto. No, no, no. C'ha le sorelle, poi, che erano sempre qui. Assolutamente, penso di no. Io l'ho visto tranquillo sempre. L'ultima volta che li ha visti? Eh, ancora un po'. Non me lo spiego. Non lo so. Non lo so. È una cosa... Non lo so. È una cosa...